signore e signori buonasera questo filmino per le esclusive di 3 radio cinghiale stereo network lo possiamo chiamare io lo chiamerei l'innaffiatoio pazzo ci sono ecco che abbiamo fatto anche una mezza doccia viene acqua da tutte le parti come vedete questo strengio parco il parco lo dobbiamo chiamare viene tutto quanto bagnato da questi innaffiatoi che ovviamente hanno un pozzo artesiano ma guardate lo splendore di questi alberi che sono veramente molto belli è che il giardino fluviale di questo mio amico di cui non faccio il nome siccome oggi abbiamo materiale abbiamo bisogno di materiale però questo questo parco si trova esattamente dove abbiamo fatto un altro filmino di quelli che abbiamo sul nostro sito che è esattamente quello che si chiama pappagalli praticamente i pappagalli vengono innaffiati anche dall'acqua di questi innaffiatoi i pappagalli si trovano in fondo è chiaro che qui il mio amico ha fatto l'impianto ma poi è il fratello che fa tutto il lavoro l'innaffiamento dell'acqua e tutto il resto è veramente molto bello come posto vi devo dire la verità io ci vengo ogni tanto quando devo ricaricare le batterie infatti adesso il mio amico non è presente ma io sono fermo qui che mi sto gustando questo questo innaffiamento che il mio amico adamo ha praticamente fatto si deve sentire il rumore dell'acqua è una cosa meravigliosa un effetto mentale veramente meraviglioso in una giornata così calda oggi è 25 di giugno stiamo avvicinando anche alla fine di questo mese una giornata molto ventilata le temperature sono un po scese scipione l'africano il anticiclone che ci sta facendo sul rana in questi giorni è un po calato di temperatura oggi siamo intorno a 30 gradi e quindi ci sta effettivamente meglio anche le cicade che con loro concerto allietano il nostro pomeriggio great sì 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 Grazie a tutti.